Benvenuti all'argomento della settimana, clima festoso perché è prenatalista, ma al di là di questo parliamo di una bella gioiosa manifestazione, proprio luminosa anche, parliamo della settima edizione del ballo debuttanti Stresa che avrà luogo il 4 marzo del 2017. Perché ne parliamo? Perché noi siamo spesso e volentieri dei giovani, delle iniziative che riguardano anche la solidarietà e questo coniugio è molto importante perché rafforza entrambi, solidarietà e iniziative. E con chi ne parliamo? Intanto con l'animatrice di questa bella iniziativa che è molto longeva, se ha sette anni, fare sette anni con queste manifestazioni vuol dire tanto e quindi vuol dire essere seri, vuol dire essere continuativi. Giovanna Pratesi, benvenuta. Lei so che ieri non poteva parlare, oggi può parlare perché era occlusa la signora. Ecco, questa edizione che viene di nuovo alla luce e che praticamente è importante perché state concludendo praticamente le selezioni. Sì, sì, non facciamo selezione, comunque le iscrizioni. Indubbiamente siamo in un momento focale perché questo momento... Ma l'iscrizione non è un po' anche una selezione, cioè uno si iscrive e quindi voi selezionate dei nomi. Ma certo, assolutamente sì. Però appunto non ci sono fasi selettive. Ecco, non ci sono fasi selettive. Beh, no, perché le ragazze che generalmente scelgono di partecipare a questo evento sono ragazze che sanno già a che cosa vanno incontro, hanno già operato una scelta e quindi abbiamo sempre avuto ragazze che fossero insomma all'altezza della situazione. Ecco, come si caratterizza questa iniziativa voluta dall'API-GO? Io direi che si caratterizza in una maniera un pochettino diversa da altri eventi che ci sono comunque in Italia perché il nostro ha un taglio sicuramente di carattere formativo, culturale e di promozione del territorio. Questi sono i tre elementi fondamentali in quanto il ballo, la serata sicuramente da sogno è un coronamento di un percorso, non è il contrario. Quindi ritengo che facciamo una formazione di rilievo, in quanto le ragazze hanno ben 12 lezioni impartite da 12 docenti e quindi arrivano chiaramente al compimento del percorso con un arricchimento culturale notevole. C'è una crescita culturale che nasce da questa presenza con questi 12 docenti che danno dei input culturali che vengono poi praticamente meditati. Certo, certo, anche perché sono argomenti che normalmente sia in campo universitario o anche in campo... Eccolo qua, sì, è quello dello scorso marzo. Sono appunto lezioni che non vengono impartite diciamo in maniera curriculare e quindi è un arricchimento secondo noi importante e significativo. E poi è un evento che raccoglie in sé tante tante sfaccettature e quest'anno vorrei dire tra poco magari ne parleremo perché qui presente appunto la scrittrice abbiamo addirittura avuto l'onore e il piacere di avere un romanzo scritto e dedicato proprio al ballo debuttante di Stresa. Pensate, quando si scrive su qualche cosa vuol dire che c'è alla base una serietà e un interesse narrativo in definitiva che richiede appunto una narrazione per raccontarlo a chi magari non conosce questo tipo di intrapresa. E infatti vicino alla nostra signora Pratesi abbiamo Mariangela Camocardi, scrittrice ed è una donna polivalente per quanto riguarda perché so che collabora con Mondadori e soprattutto scrive di tante cose. Sì, beh, io scrivo gialli, romantici, storie d'amore, lo storico. La vita degli uomini e delle donne che si intrecciano appunto. Mi piace il romanzo storico per questo abbiamo fatto con Giovanna questo progetto ambientando questo libro nella Stresa dell'Ottocento, epoca belle époque perché è una delle epoche più effervescenti e quindi con un ballo delle debuttanti patrocinato dalla regina Margherita e speriamo che sia una lettura piacevole. Il progetto è nato da lei, Giovanna, perché lei tiene moltissimo che le sue ragazze, queste deb che lei fa vivere un sogno, possono avere un assaggio di quello che è appunto un ballo così come questo pieno di allegorie, di vestiti, di sogni. Ecco, la sua penna come si è appassionata a questo ballo? Tanto da scrivere a me. Nel romanzo storico io ho parlato spesso di questi balli di corte, erano a Vienna specialmente, erano una costante, però i balli veri di un ballo delle debuttanti, cioè i passi, i balli che vengono fatti, li sapeva lei e queste dritte me le ha date Giovanna. Ah, ecco, l'esperienza ormai di tanti anni e comunque è questa diciamo una chicca di quest'anno perché è una novità ma non è l'unica perché noi in ogni edizione cerchiamo di trovare un qualcosa di innovativo che faccia non solo crescere l'interesse ma insomma che faccia comunque crescere anche l'evento. Per esempio una cosa che è per noi importantissima è la collaborazione che si è staurata ormai da tre anni con l'Associazione Nazionale Ex Allievi della Scuola Militare Tuelia di Miliano di cui qua ci sono due rappresentanti. Abbiamo qui due rappresentanti che fra poco presentiamo. Che sono i cavalieri. Ecco, i cavalieri, però prima volevo passare a un'astra ospite che presentiamo subito e che è stata già, non è una new entry, è stata qui da noi che è Maria Ilenia Carbone, ex debuttante. Come si sente nei panni dell'ex debuttante? Invidiosa. Lei ha le gote che rigono, è pazzesco, ha due belle gote che sono i denti, i rigolioni, no? E' solare, sta ragazza è un... Si vede solare. Grazie, sono un po' invidiosa se posso dirlo, perché sì è una bella esperienza, però ammetto che mi piacerebbe riviverla ogni anno rubando un po' la scena alle nuove partecipanti, ecco. Lei quando ha partecipato, come debuttante? Nel 2013. Quindi una vita fa? Eh, addirittura. Una vita fa, perché gli anni sono lunghi, decorano. Eh sì, però facciamo di decorare piano, no vabbè. Comunque con Giovanna è rimasto un buon rapporto, ci sentiamo sempre e comunque il fatto di poter partecipare anche da ex debuttante ai vari eventi ci permette... Cosa fa la ex debuttante? Cosa? Che cosa fa? Quale ruolo svolge in questa intrapresa del ballo delle debuttanti? Un ruolo importante. Un ruolo importante perché a noi tocca far vedere ciò che noi abbiamo vissuto con i nostri occhi con la semplice parola, fare in modo che la nuova iscritta o chi magari lo sta solo sognando e lo vuole realizzare si innamori delle nostre parole che poi sono reali, perché ovviamente se una cosa ci piace la continuiamo. E tutte quante noi fino adesso non credo che siamo le dimaste deluse, nessuna di noi, ecco. Bene, questo è importante. Quando non c'è delusione c'è soddisfazione, perché questo è il discorso che consente questa sua considerazione. Presentiamo gli altri due ospiti, finora volutamente ignorati, perché la presidenza è alle donne, perché le donne sono ormai il numero maggiore per quanto riguarda gli abitanti della terra, sono il numero maggiore rispetto agli uomini. E allora presentiamo Stefano Ambrosino, scuola militare teulie, ex allievo, va precisato, con il collega che è vicino a lui, molto rigoroso, Emanuele Massaro. Allora, la vostra esperienza che avete impattato con questo bala delle buttanti, voi adesso andate a fare questi protagonisti di questa settima edizione? Sì, sì, co-protagonisti, perché le protagoniste sono le debuttanti. Ecco, subito lo scettro è stato ceduto, le protagoniste sono le debuttanti, è giusto? Esatto, noi siamo, diciamo, i cavalieri, gli accompagnatori di queste ragazze che per la prima volta partecipano a questo evento, questo debutto in società e noi siamo lieti di accompagnarle. E voi come debuttanti in società? Siete anche voi debuttanti? Sì, noi il nostro debutto... Anche l'uomo entra in società a tutti gli effetti. Sì, allora, noi il nostro debutto l'abbiamo, diciamo, celebrato quando facevamo parte della scuola militare e, diciamo, quello è stato il nostro primo ballo e poi adesso, grazie a questa collaborazione con l'associazione APEVCO e l'associazione nazionale ex allievi della scuola militare teulie, continuiamo questa tradizione e quindi siamo, diciamo, già debuttati, però siamo lieti di far debuttare. Faccio una domanda che è specifica. Mi parla un istante di questa scuola. Dove si trova? Allora, la scuola si trova al centro di Milano. Massaro. A 800 metri dal Duomo. A 800 metri dal Duomo. Corso Italia 58. Ah, pieno titolo milanese. Esattamente. Si frequentano tre anni, è un liceo scientifico classico, si accede tramite un concorso nazionale, è una scuola di vita. Spesso viene definita come palestra di vita e non fucina di ufficiali, perché non è vinculato. Palestra di vita. Quanto è importante oggi avere delle palestre di vita in questa società sconnessa e soprattutto molto spesso priva di valori, di riferimento, ma di comportamenti conseguenti a persone che si dicono umane e dotate di civismo. Certamente. In questa scuola noi ragazzi imperiamo l'onestà, l'onore, la disciplina. E dite poco. L'onestà, l'onore e la disciplina, perbacco. Che sono guide insostituibili nella vita. Certo, sicuramente. Poi facciamo molto sport, è un liceo scientifico e classico, quindi lo studio non è mai trascurato, anzi, si punta sullo studio e sullo sport. E poi su iniziative come queste, che sono un po' estemporane, che rappresentano una novità anche per voi. Una novità, ma in continuo con la tradizione, perché io non ho ancora partecipato al ballo di Stresa, però ho partecipato al MACP100, che è il ballo che organizza la nostra scuola, alla fine dei tre anni. Ho capito. E quindi che tipo di valutazione ricava da questa adesione a un'iniziativa del genere? Allora, sicuramente c'è un forte desiderio da parte sia dell'APEVCO, sia dalla parte dell'Associazione Nazionale, di continuare un solco, camminare in questo solco della tradizione, e secondo me è fondamentale, soprattutto per una cerimonia ormai quasi caduta in disuso, che talvolta viene considerata quasi come un retaggio. In realtà non è assolutamente così, è una serata di gala, pochi hanno l'opportunità di vivere un'esperienza del genere. Ecco, senti una cosa, io noto che molto spesso da quando è stato abolito il servizio militare obbligatorio, ecco, c'è una carenza in molti giovani che non avendo fatto il militare, non hanno acquisito quell'educazione ferrea che aiuta a vivere e che insegna a vivere. È d'accordo con me? Non è la prima persona che me lo fa notare. Io non posso dire, cioè potrei esprimermi, ma essendo che la leva non è stata abolita, ma è stata sospesa, potrebbe essere reintrodotta. Potrebbe, ecco, sospesa, che il termine è ancora più esatto. Esattamente. E per cui, ecco, e lei cosa diceva così? Ah, secondo me ci sarebbe bisogno di una reintroduzione della leva, non tanto per la vita militare, ma per l'educazione, per certe cose, certi, diciamo, il modo di stare nel mondo, facendo carriera in ambito militare. Lei non è una donna e le chiedo, quanti anni ha? 25. Ecco, 25, che è già un ombre, quindi è un uomo che ormai sta acquisendo esperienze. A 25 anni ha qualche anno già di forte inserimento nella vita. Sì, sì, io sto terminando il mio percorso di studi, sono, diciamo, prossimo a entrare nel mondo lavorativo, assolutamente non militare, quindi, diciamo... Tu, in che ambito interaggia? Io sto studiando ingegneria dell'automobile. Oh, però, pensi che l'altra settimana erano miei ospiti, coloro che posseggono le auto d'epoca, o storiche, come si chiamano, no? E c'era, ad esempio, Marco Graziani, Canale 5, mio carissimo amico, io sono sotto le mani di nozze, e Marco Graziano ha una Rolls Royce del 1975. Altri cultori della estetica automobilistica, c'era qui uno che aveva 30 lancia, lancia Ardea, lancia Aprilia, di tanti e tanti anni fa, e custodiscono il passato dell'automobilismo, ed è interessante questo culto delle vetture che percorrono che cosa? Le stagioni della vita, perché voi pensate, non so, a Gasman, quando ha fatto il suo film famoso, che gli dà una certa macchina che oggi è quotata moltissimo, quello che uno volesse acquisirla, ecco. Il sorpasso era il film, per intenderci. Posso dire una cosa, lei ha citato Marco Graziano? Sì. E viene al ballo delle buttanti e accompagna le nostre ragazze di Rolls Royce. Ah, ecco, volevo dirle, perché non lo sapevo, Neanche io sapevo che lei conoscesse. Quella Rolls Royce lì, guardi, devo svelare un piccolo particolare privato, una sera mi telefono a Marco e mi dice, senti, vieni a casa mia a cena. Io sono in definitiva il suo padrino in tutti i sensi. E ma come? Ti vengo a prendere in Rolls Royce. E sono andato da Novara a Cerano e ritorno. Una macchina fantastica, un salotto. E in effetti pensavo alla regina Elisabetta, pensavo agli inglesi che hanno queste macchine incredibili, Rolls Royce, poi ovviamente ci sono altre macchine. Poi ci sono ufficine proprio di Novara, Giorgio Fiorenza, che mantengono i grandi... Giorgio Fiorenza è il nostro ospite, è vero? Chiediamo al nostro cameraman... Che mantiene queste macchine in una maniera impeccabile proprio. Impeccabile, queste macchine sono nuove e sono quasi immortali. E l'anno scorso era già in collaborazione con noi, Marco. E l'anno scorso, purtroppo il 5 di marzo era l'anno scorso, da noi è neveccato. Ha neveccato, quindi in Rolls Royce non sono potute arrivare. Le ragazze non hanno potuto fare il percorso. C'è un sacco di macchine molto belle. Comunque Marco sarà ancora quest'anno, e speriamo quest'anno, di farle arrivare a Regina Palace, tutte in Rolls Royce. Ah, per bacco! È uno dei nostri sogni. Volevo solo dire una cosa. I ragazzi sono in rappresentanza appunto dell'Associazione Ex Allievi. Però io voglio rivolgere un ringraziamento, direi doveroso, a una persona splendida, che peraltro è anche un carissimo amico, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Ex Allievi, il dottore Gianluca Crea. E grazie insomma alla sua guida illuminata, devo dire, che noi abbiamo potuto stabilire con loro questo bellissimo rapporto. Perché è un uomo speciale, è terribilmente impegnato, quindi è molto difficile poterlo avere avuto in questa circostanza. Però è doveroso citarlo, perché è una persona che ha fatto molto per noi. Allora, signora Pratesi, mi dica le chicche di questa settima edizione. Che novità ci sono? Allora, la prima chicca l'abbiamo già annunciata, che è quella del romanzo, che insomma ci inorgoglisce proprio veramente tanto. Avete culturizzato la manifestazione. Certo, poi abbiamo instaurato delle nuove collaborazioni, tra le quali quella di un locale famoso del territorio, non è molto distante da qua, che infatti è in provincia di Novara, perché a Castelletto Ticino è il famoso Gilda. Gilda! Gilda, la conoscono tutti. Andiamo a Castelletto da Gilda! Domani sera infatti avremo una serata a noi dedicata, che ci offre il Gilda, che è proprio la serata Winter Celebration, che è dedicata al ballo di buttanti. Quindi siamo in contemporanea, sarete in contemporanea sulle emittenti nostre e al Gilda. Cosa fate al Gilda? Al Gilda è una serata dedicata a noi, noi avremo un corne con delle ragazze vestite, promuoveremo il nostro evento e sarà proprio dedicato a noi. La serata è dedicata al ballo di buttanti di Stresa. Quindi avremo ospite, le nostre ragazze, collaborazione. La seconda chicca. La seconda chicca. Poi abbiamo... Chichiamo. Chichiamo. Vediamo un po' se riesco a ricordarmi tutte queste chicche. Le lezioni sono state incrementate, perché abbiamo la lezione appunto tenuta da Maria Gela Camocardi, che è il romanzo della storia, ma non solo. Sarà presente anche Anna Rita Virganti, che è una scrittrice che opera nel milanese, anche se lei in milanese non è, comunque che ha scritto... Il titularista della Repubblica. Il titularista della Repubblica e anche su Donna Moderna. Ma ha scritto anche lei un libro... Ha scritto due libri, uno dei quali imperniato sul femminicidio, la violenza delle donne, il romanzo sviluppa questo argomento che è di attualità drammatica e quindi... E poi è un romanzo che ha avuto un suo successo e la scrittrice è conosciuta, perché Anna Rita è conosciuta, e verrà il nostro ballo impartire alle ragazze la scrittura creativa. Sono importanti, vedete, che arricchiscono il casting in definitiva. Ma abbiamo addirittura quest'anno aggiunto un sacerdote che non imparterà lezioni di religione, anche perché noi arrivano ragazze un po' da ovunque, poi la religione è una convinzione personale, quindi non vogliamo impartire, bensì farà una lezione di vita, e infatti questo farà capire alle ragazze forse dei concetti basilari della vita. Che belle immagini stiamo vedendo, molto belle, significative. Sì, con degli abiti meravigliosi perché abbiamo una teglia che ci segue da ormai quest'anno, il terzo anno, e veramente fa degli abiti che sono splendidi. Avete una bella partecipazione, corale. Sì, sì, molto molto bella. Poi abbiamo quest'anno, ecco, una novità importante che poi vedremo perché ci sarà qui il rappresentante, gli stagi universitari. Ah, e quali sono questi stagi? Stagi universitari vuol dire che noi quest'anno faremo venire a lavorare nella nostra sede, peraltro abbiamo molto bisogno perché essendo un anno profit chiaramente abbiamo bisogno di aiuto, siamo pochi a lavorare. Voi non lucrate nulla, essendo un anno profit avete bisogno del sussidio di chi ha l'animo buono di aiutarvi. Certo, e quindi questi ragazzi fanno da noi gli stagi universitari, e noi siamo in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, e quindi fanno, trovata la penna. Cercavo la penna, perché senza la penna sono morto. Ecco, ho visto che era preoccupato. Non sono un pen di vento, faccio il giornalista da 60 anni, però la penna è fondamentale. Oggi non c'è più la penna, ma io la tengo vicina, sono un vecchio, un veterano, ecco. Ma la novità sta anche nel fatto che oltre lo stagio che fanno in sede da noi, abbiamo attuato anche degli stagi a distanza, quindi soprattutto sempre su tutto ciò che riguarda a distanza. Cioè, ragazzi per esempio ce ne sono, in nostro gruppo siamo in cinque, ce ne sono cinque, arrivano da Palermo, arrivano da... Ma lei è telegenica, guardi che roba. No, io non posso vedermi, pensa lei. Ah, mamma mia, la ringrazio. La sta inquadrando lo Stefano, in primo piano. Ecco, comunque anche questa è una cosa interessante, perché è una cosa nuova, la stiamo sperimentando, e potrebbe anche essere un input maggiore per una comunicazione social e web, diciamo, più qualificata. Sì, questo è molto importante. Poi abbiamo la... chiaramente ne parleremo dopo, perché questo è un aspetto importantissimo, che è la solidarietà, perché noi siamo in collaborazione... Certo, avete la Lilt come... Con l'Lilt, da ormai questo è il terzo anno. Ah, il terzo anno. No, il secondo anno, mi sto sbagliando. E quindi avremo poi qui la rappresentante, che è anche la ragazza che è stata scelta come testimonia. Senti, Ilenia, lei adesso, come ex debuttante, vive ancora la realtà della debuttante, perché certamente si compiace di questo ruolo. Certo. Ecco, volevo fare una domanda che non vuole entrare nella sua privacy, ma lei ha un volto sereno, aperto, solare, e quindi mi porta a fargli la domanda. Ma lei, come valuta il mondo che la circonda? Lei è una bella ragazza, sarà, ha detto anche di attenzioni, sarà, diciamo, al centro anche dell'interesse giustamente maschile. Allora... Sinceramente. Il ballo delle debuttanti mi ha aperto un'altra ottica. Cioè, nel senso... E qui volevo arrivare. Ecco. Che cosa, come ha interferito il ballo delle debuttanti nella sua concessione di vita, nel suo modo comportamentale. Allora, è un qualcosa che ti cambia, involontariamente, perché... Qualcosa che ti cambia. Esatto. Noi andiamo lì non per cambiare noi stesse, però man mano che l'evento nasce, man mano che l'evento si crea, dalla settimana preparatoria, con le varie lezioni, che sono importantissime, perché là nasce la vera amicizia tra tutte noi ragazze, con i cavalieri, appena li incontriamo, che cerchiamo sempre di... Nascere amicizia può nascere anche l'amore. Anche ci sono stati. L'amore ha fatto di incontro. Le storie d'amore, quando nascono sull'onda della musica, sono belle, perché ti veicolano nel futuro. Però devo anche dire che questa cosa, che i nostri cavalieri, i nostri ormai ragazzi, amici, tutti quanti, tutto diciamo, ci fanno sentire delle vere principesse. e nel mondo attuale, fuori dal vallo, è un po' diverso. Quando una donna si sente principessa... L'hai conquistata. L'hai conquistata, semplicemente. Questo è il segreto. Ragazzi, non ho imparato troppo in fretta, se no... Però è vero. Ma le ragazze sono affascinate da come anche loro, che sono ex alievi. Ma si vede. Hanno rispetto e un tatto e una considerazione. La pulizia del rispetto, proprio. Si vede, sono ragazzi... Anche la ragazza più moderna, magari più lontana... Quindi involontariamente si cambia. Ma si cambia in un modo positivo, in un modo di affrontare le cose, perché io ad esempio ero molto timida con le telecamere. Odio, odiavo. Parliamo un po' al passato. Adesso veramente non è... Questo però è dovuto... A suo agio. Ecco, ma è dovuto da un lungo percorso, grazie a Giovanna, a tutto quanto. Anche questo è un percorso culturale. Sì, sì. E poi fa parte certamente del rapporto col mondo, come, diciamo, approcciare la vita. Esatto. E quindi, però anche questa è un'esperienza. Che che ne dica? Ogni lezione ti crea un qualcosa. Alla scrittrice Capocardi, volevo fare questa domanda. Sì. Il libro è qualcosa di fondamentale per me nella vita dell'uomo. Perché quando uno non ha amici e nella propria cameretta ha un libro, ha un grande amico. Perché il libro consente di uscire dalle finestre, di andare attorno al mondo, nel mondo, e quindi di ricrearsi proprio un dialogo. Ecco, cosa vuol dire per lei scrivere? Ah, guarda, innanzitutto sono stata una grande elettrice. Io no... Prima grande elettrice. Grande elettrice. Quindi da piccola? Sì, non vedevo l'ora di andare a scuola perché ero un po' primente con i parenti, leggimi questa favola, raccontami questa favola. Cioè, affamata... Tutti abbiamo vissuto di favole. Sì, sì. All'inizio della vita. E poi ho cominciato a fare dei pensierini che erano delle piccole favole quando sono andata a scuola. E non ho smesso più di scrivere. Il libro per me dovrebbe essere presente nella vita di tutti, specialmente dei ragazzi, perché è formativo. Brava! Io ho conosciuto molte persone che hanno cambiato vita in modo di vivere leggendo un libro. Esatto. E me l'hanno confessato. Io ho avuto 16.000 ospiti nella mia vita giornalistica e televisiva, televisiva nella fattispecie, e quante persone ho conosciuto. Peccato che sia mancato il nostro Franco Terzera, mio amico di infanzia, mio collaboratore per 50 anni. Il libro è fantastico nel costruire le vite. La fantasia, aprire gli orizzonti, mostrare altre realtà. Ma io mi ricordo proprio un fatto specifico che mi ha colpito. Io avevo un amico che era affetto da continuo e seriamente nervoso, appunto che a un certo punto aveva divisato di uccidersi. Mi ricordo che mi dice no, io non ce la faccio più, prima o poi aprirò la canna del gas. Io dice, beh, ma se lo dici non lo fai. Ebbene, lui si è salvato, tra virgolette, da questa depressione grazie a un libro. E i libri. Grazie a un libro. E quindi, insomma, praticamente è importante questa funzione che voi avete nella vita delle persone. Una scrittrice, uno scrittore, ecco, contribuiscono a creare anche tante situazioni che... Io, per formazione mia, sono di un'altra generazione, cerco di trasmettere anche quei valori di cui parlavano loro, l'educazione, la galanteria. Certo. Gli usi del nostro paese, la bellezza italiana, perché io, per scelta, io nei miei romanzi scelgo sfondi italiani. Non abbiamo niente, gli altri paesi, penso che in confronto all'Italia, hanno molto meno da offrire. Con tutto il rispetto che posso avere per l'Inghilterra, per la Francia, per... vogliamo mettere l'Italia, che era chiamato il giardino di Vienna una volta, il giardino d'Europa. Stefano, è un buon lettore Stefano o no? Ma, diciamo che sono stato un buon lettore nel periodo delle superiori, ultimamente con l'impegno universitario un po' meno tempo, però se posso... Leggi libri che interessano la tua, diciamo, carriera universitaria. libri extrascolastici ne riesco a leggere un po' meno, però comunque... Che cosa leggi? Hai ricordi un titolo che possa rappresentare nella tua memoria un incontro importante con la lettura? Ma magari può sembrare strano per un ragazzo che ha frequentato un istituto militare, ma Harry Potter è stato un grande libro per la mia adolescenza. Quante conquiste ha fatto Harry Potter? È un potteraggio unico? Certo, bene. Emanuele? Ma in questo momento mi sto approcciando un po' di più alla lettura, al contrario di Stefano, perché ho finito gli studi accademici e ho più tempo per... Sai qual è una specie di defiance di oggi dei giovani? Che purtroppo hanno il cellulare e magari leggono poco e questo è un difetto, perché la lettura, il libro è insostituibile, anche il cartaceo. Il libro è come la lettera al posto del messaggio, penso che abbia tutto un altro effetto. Ecco. Il colore della carta, l'odore della carta, l'odore della carta, l'inchiostro. Ma poi il libro, quando tu lo inizi, ecco, ti è amico. Perché inizi un percorso che dura qualche giorno magari. Certo. E quindi per qualche giorno hai un amico con cui in definitiva dialoghi, perché uno, quando legge le cose degli altri, molto spesso si identifica. Certo. Oppure impara ad identificarsi. Maestro. Oppure trae degli spunti anche per cambiare vita, per dare la propria vita a una correttura diversa negli attesimenti quotidiani. Sicuramente. Bene, bene. Questo è importante. Ahimè siamo giunti già alla fine della prima parte. Ci lasciamo perché fra poco interverranno altri ospiti in questa cospicua presenza qui a Videonovare nelle nostre emittenti che riprendono la trasmissione. Ecco, avremo altri ospiti interessanti per approfondire ulteriormente il discorso sul barro debutante di Stresa. A fra poco.